Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Si prosegue con la seconda parte di Ark, sempre nel server di Asgardia, che sto sponsorizzando, il server in cui sto giocando regolarmente. Sono con un gruppo di ragazzi conosciuti appunto nel server e mi hanno portato a vedere, visto che usiamo la mappa di Ragnarok, mi hanno portato a vedere un dungeon, perché ero rimasto, vi ricordate all'epoca sul canale Tutto, da andare, più che dungeon tra molte virgolette, erano delle specie di catacombe o comunque grotte sotterranee, e alla fine non c'era nemmeno un boss da combattere, c'era da ammazzare tot mostri, ma che sponavano randomicamente, e poi arrivavi in fondo e prendevi la reliquia. Ora, il finale non ve lo spoiler è tutto, comunque diciamo che il succo è lo stesso, però ora in questa mappa di Ragnarok l'hanno convertiti in veri e propri dungeon, perché addirittura c'è una boss fight finale, e una volta sconfitto il boss bisognerà aspettare tot tempo, come su World of Warcraft o in un Morpig, che responi per rifare poi il dungeon da capo quando saranno sponati tutti i mostri. E ogni volta che il dungeon è tipo di vision 2 o 3 step, sì 3 step mi sembra, e ogni volta c'è una ricompensa da prendere, quindi classico scrigno da aprire, se no non avrebbe senso fare un dungeon solo per ammazzare i mostri. E devo dire la verità, la prima volta che faccio un dungeon su Ark, l'avevo fatti su Conan, ma su Ark non sapevo nemmeno che esistessero, mi sono divertito molto da morire, come ora a breve vedrete nel video, ringrazio i ragazzi che erano con me che mi hanno fatto poi risate e tutto, mi hanno fatto i divertiti da morire, e si voleva fare questa run in questo dungeon, questa blind run, la prima volta, seria, precisa, messi lì tutti quanti con le armi, ognuno con l'armatura, guardate un po' mi è andata a finire. Buon, iniziamo. Andiamo, andiamo, pronti. Questa è l'entrata. Prima volta, eh, primissima volta, quindi, a parte anche proprio sul Ragnarok, sarà la seconda, quindi, un l'ho mai visto sto posto. Hai visto il sangue qua? Guarda lì. Fa spettacolo, è fatto bene con la neve che cade. Praticamente la storia è che ci sono questi tremors, che tirano dentro qua i dinosauri per mangiarsi, tecnicamente. Ah sì? Sì, infatti adesso, vedi anche quest'orso qua che è morto, mezzo ghiacciato. No, che figata di buono. Me l'ho già perso. Giulio? Sì, ci so, ci so. Sei pieno, Giulio. Non so, infatti. Aspetta un attimo, leo tutto. Che fa dei spari, aspetta. Ma sì. Boh, sembra il finale del film, la cosa, di buono. No, no, col bazooka no, eh. Allora, occhio qua, ridan, che spuonono da sottoterra, eh. Ok, dalle fottute pareti, ok. No, lo sai, ti giuro, mi mette l'ansia. C'ho la claustrofobia io dal vivo, davvero? Mamma mia. Ah, quindi dobbiamo entrare uno per volta. No, no, l'ansia, l'ansia, muoio. Aspetta, chiude l'occhio, eh, un guardo. Siamo bloccati. Guarda là, guarda come devi passare, guarda. Come quello che ti faceva in Croazia, quei matti che entravano dentro le grotte. Ma lo sai, nemmeno per un milione di euro, te lo giuro. Tanto me li godo, moio. Eh sì. Come pesare a siera, mi ricordo? X. X, ok. No, no, ti giuro, mi dessero un milione sull'unghio, sì, niente. Povero un canna, ma non ci vuole lì dentro. No, aspetta, mi sono bloccato. Fì, c'è il modo, tutto di qui. Tutto? Dove sono io, di qua. Ah, ok, sì. Boh, mi sembra di essere un serpente. Andiamo. Mamma mia, che spettacolo, comunque, è fatto veramente bene. A parte che io sto pian piano assiderando, però è fatto bene. È le pozze, eh? Sì, ce l'ho, ma c'è, con la tuta addosso copelli, lì. Qui c'è un cadavere. Non dovrei sentire, guarda lì, no, spettacolo. Sì, questo qua era... Uno che l'ho voluto vedere. Di qui, Pina, non siamo mai andati di qui, però, eh. Andiamo a vedere. Ma vabbè, hanno fatto un lavoro assurdo, comunque. Ah, qui dovrebbe spawnare il primo. Eccolo. Oddio, oddio, che cazzo è? Ok. Fa vedere cosa droppano? Dovrebbe dare le perle nere. Ah, vabbè, sì, se lo picchetti, giustamente. Giulio? Gelatina di rana pescatrice, perfetto. Corno di verme della morte. E ti perdi, Giulio? Sì, no, no, va bene, ho capito. Ok. Ale. Aspetta, me lo voglio perdere. No, è un bel morto. Cazzo. Dai, dai. Giulio. Sto per morire. Io volo. C'è colpito, eh. C'ho uno di vita. Io ho fatto. No, ascolta. Ti ho colpito? Ascoltami. Ma hai distrutto l'armatura. No. Non lo facciamo, eh. Davvero? Io voglio dare attacche C4, Ale. Poi, amore. Ok, qua c'è il drop. La spada laser non me la dai, dè. Eh, ecco, andiamo. È vero. Eccolo! Vabbè, Corida, se vuoi per l'hotel drop per vedere cosa c'è dentro, magari. Vedo male perché c'ho l'omino, quello... Come siamo? All'iconcina a vella a sinistra e fa vedere l'omino che si pare dal sole, capito? Spogliati tutto che ti va via quella roba lì. Eh, assolutamente no. Sennò qui c'è. Sì, sì. Sangue di sangue suga. Ora però muoio dal freddo. Buona roba bestia. O uno o l'altro, eh. Ti raffreddi un attimo e poi ti vesti un pochino. Un qualche pezzo. Non... Richiede personaggio di livello 65 per aprire. Ah, ok. Mi fido di voi. Cos'è? Una stalla ascendente per mantide. Aspetta, anche la troppo. Allora, ascendente sella per mantide. Sì, poi prendetela voi perché non c'ho nemmeno posto io. E? Ah, il boomerang. Ah, le figlia. Torna, fai vedere. Oh, c'è un altro! Oh, che cavolo. Ho smonato uno. Fai vedere se torna il boomerang che voglio provare. Ma sono curioso. Il boomerang puoi stendere la creatura? C'è la... Oh, tento. Poi. Come si tira? Devi caricare con l'altro tasto. T'ha caricato? Ah, ok. Ale! C'è la... C'è la... C'è la sella per amante, Dio. Piglialo. È quello di Fantozzi. Che le bussa la porta. Aspetta. No, vabbè. È stata tutta la sera qui a tirar questo altro UI. No! Guarda lì. Iee! Potevamo farlo con i boomerang. Il boss. Ale! C'è la sella. Pigliala. Ce la faccio col peso, Giulio. Tutti. Ma cosa c'è lì? Corrida, se vuoi andare avanti te... Qui c'è un segreto. Ah, c'è anche segreti, eh? C'era uno che si andava a imbuscare lì per non morire, ma è morto stesso. Eh sì. Dov'è il segreto? Non l'ho visto. Ah, questo! Morca, son, l'ho visto. Guarda com'è morto. Morto bene. Minchia malissimo, Adrede. Che stato. Eh, mi dispiace. Ok, adesso qua, Corrida, ci dobbiamo buttare di sotto. Vai. In questa zona qua. Son pronto. Ah, livello, aspetta, metto... Metti for... Eh, tempra. Eh, infatti. Che conviene. Sì, sì, messo, messo. Ok, qui ci dobbiamo buttare di sotto. No, aspetta. Tutto fermo, eh. Ah, ok. Vai, meno male, pensavo crashasse. Vai, mettiamo di sotto. Sì, qui c'è il drop. Qui dove c'è... Fine? C'è il drop. Sì, qua c'è il drop. Qui c'è un drop. Ma qui come risorse come si trovano? Viste che sono qui cristalli verdi, dropperanno varie cose, di sicuro. Sì, no, sono solo cristalli normali. Ah, ok. Sì, sì, sono normali. Ok, qui c'è un altro drop. E immagino che non si possa costruire qui dentro, perché sennò Dele O'Levi... No, qua no. Fatti, giusto. C'è dentro questo e questo? Allora, cos'è? Fai vedere la pistola e la sella per Ecus. Comunque qui è bello anche per venire a farmare gli artefatti. Uno entra fino qui e poi può tornare indietro volendo. Oh no, fine. Si può? Sì. Eh no, devi farti il boss o l'artefatto. No, da sotto, se vai sotto. Se scendi da questa cascata qui. Boss fa male. E quindi dobbiamo stare in una posizione che lui non ci prende col suo attacco. Quindi stiamo più indietro possibile. Quando esce fuori, spariamo. Ma cosa c'è il muro alla Dark Souls per entrare? Ci hanno messo. Ok, qui ci dobbiamo buttare di sotto, non si muore. Perché c'è l'acqua. La nebbia ci hanno messo. È un bel volo. Corculo e me li trovo. No, no, non muore. Buona botta. Ok, quando vuoi corri da me avanti tu. Ah, io devo andare, va bene. Ho già capito la fine del film. Vado avanti? Sì, non scendere però. No. Fado solo sponare fuori. Ok, è lì. Mi dia ogni sparo che lancia missili. Più che altro devo farlo uscire. Un black block, pare. Il problema è che sto morendo di freddo. Ma dov'è? Dai, lì sotto, Pina. C'è, c'è. Ok. Vabbè, dai. Arriva il mega mostro, vado. Vado io, vado io. È qui sotto, guarda che esce adesso. Vai, 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 scappa. Lo attiro col boomerang. Dov'è? Io gli sparo e lancia missili. Ma anche se corri da mancia missili. No, 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 no. Oh, duuuu. Eccolo! Ok, dai, non ho matto. Duuuu. Veloce, cambia caricatore. No, non si è fatto nulla. O è morto? Sì, sì, lo uccidiamo, lo uccidiamo. Quindi fa 250, chissà. Vabbè, continua che è morto. 1150 li ho fatto. Dov'è? Dov'è finito? Non è che se ne vado a cogliere un'altra volta, eh? No, no, no. Oh, cazzo! Eccolo! Vai, 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 vai. Mi ha rotto le scarpe ascendenti. È morto, dai. È morto? Porca troia. Boia! E' la roba! GG! GG! Oh, dai, serve anche le fiamme, gli ho dato il lancio. Boia! Mi sa che... No, stavolta la posso prendere. Allora, progetto spada, progetto arco composito. Ok. Ok. Ti ricordi, questo qua è dentro il drop. Tieni. Dentro il monster. La prendi in casa. Fai vedere. Sono tipo le cose, mi si amano. I trofei, le rionpezze, sì, sì, da mettere in casa. Sì, sì, i trofei. Hai notato tutti i dinosauri congelati qua sotto? Sì, sì, l'ho visto. E se noti, questi qui sembrano proprio tirati da questi vermi, qua sotto, per cibarsene. E guarda lì, c'è anche il gigantosauro, eh. Sì, c'era il coso lì, lo stegosauro, il tirandosauro. Io sta zitto, io lo capito, io sta zitto. Oh, ti fanno ragionare? No, no, mi fanno ragionare. No, guarda lì, oh. Eh, questa però, no, no, lì ci vuole il bazooka, eh, per forza. No, no, vai tranquillo, non c'è niente. Ti fa solo vedere cosa potrebbe essere. Sì, ce l'ho il bazooka, eh, provo? Lì ci vuole una specie, ci vuole uno schioppo lì nel mezzo. Cos'è quella bestia lì? Un giga, che l'hanno tirato dentro per farcibare i piccoli, vedi? Quelli sono i piccoli dentro le uova di vermi. E quel verme lì ha tirato dentro il giga. È vivo, è vivo, è vivo. È ancora vivo. No, vabbè, che cazzo di figata è questa? E guarda che versi che fa di sofferenza. Cioè, i vermi che appena escono, ma... Tipo alien, via, per capire. Sì, esatto. Ma è figata assurda. Poveraccio, diamogli l'estremo unzione, vieni. Non ci vuole. Eh, devi potir, mi dispiace. Vada lì, bello però. Però se tu pensi che dei vermi ti portano tutto il giga, mamma mia. Per aver portato lui vuol dire che sono grossi. Esatto. Vedi? Ah, l'artefatto. Artefatto del branco. Quello lì sarebbe a spawnare il boss ufficiale di tiragna Rockland Manticola. Allora, l'artefatto. Si fa il carione finale, vieni. Sì, sì. Sì, sì, sì. E' un alfo! No, 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 no! Oh, mamma. E' morto qualcuno? No. Che affare è? Ma cos'è? E' un leone della giungla. Porca troia. Salute invece che saluta. Meno male non l'hanno pagata i traduttori. Salute. Oh, oh. Mamma mia. Cosa ha fatto lo starnuto? Evviva. Cosa ha fatto? Ah! Può vedere cosa c'è? Ridi. Oh, 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 oh. E' so brutto in questa barba, di modo. Da lì. Sembra un nano con il mitra. Lui con il bazooka, anzi, non si può vedere, oh. Non si può vedere. E' lui che è istinto, il dinosaurio. E' quel troiaio lì di bazooka, te lo dico io. Sì, sì. Ha fatto un casino, guarda. Non capisca più nulla, dinosauri. Vi danno passati i missili. Guarda, guarda. Guarda verlo, guarda. Guarda, ci ha messo paura, guarda. Oh, è un culo. Chi è? Le ha perdita la testa? Cos'era? No, ma non mi ha pagato male. L'ha decapitato, quel missile. Sono le ragdoll, quelle fatte bene. E questo, ragazzi, è il server di Asgardia, che trovate in descrizione. Nel primo link vi metto direttamente l'indirizzo IP per connettervi al server. E' un server in cui potete giocare con Ark Vanilla, quindi senza nessunissima espansione. Hanno messo varie mod prese dal workshop di Steam, però non servono espansioni. E c'è veramente da divertirsi. E' un server in mappa Ragnarok, che inserisce dungeon e molto più contenuto PvE rispetto alla mappa base di Ark, però ovviamente è un server PvP. Si può fare gioco di ruolo, si può fare guerra fra clan, commerci anche di risorse fra un clan e un altro, però comunque è un server PvP. Venite a trovarci se volete giocare con noi, se volete entrare nel server farebbe sicuramente molto piacere, così anche da vivacizzarlo un pochino, magari anche iniziare a fare le prime guerre PvP e cose varie, però avete visto anche come contenuto PvE ce n'è veramente, veramente tanto. E ora ci sono anche i dungeon, e questo ovviamente non è l'unico. Forse è uno dei più semplici, ma non è l'unico, ne troverete altri, ma niente spoiler. Comunque ragazzi, il link è in descrizione, e niente, venite a trovarci su Asgardia. Vi aspettiamo, vediamo se stavolta ce la farete a raidare Coridan. Dai, vi getto una sfida. Vi aspetto sul server. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.